Le misure non sono male, alla fine diciamo che è stato un salvataggio in calcio d'angolo perché eravamo partiti molto male. Sistemeremo la spiaggia durante il prossimo fine settimana e poi saremo operativi dal 29, dal giorno che si può aprire. Paolo Bonetti aveva l'aria di chi l'aveva scampata. Un inverno di mareggiate che a Porto Novo schiaffeggiano la costa. Il Covid, le distanze impossibili da rispettare, poi la mediazione della regione. E così si riparte, questi gli ultimi lavori nelle immagini girate da Andrea Fiano, il 19 maggio scorso. E però è un nastro riavvolto, uno scherzo sulla cronologia del tempo che dissolve quelle immagini in un cumulo di macerie. Un incendio all'alba di sabato 30 maggio ha devastato e inghiottito lo stabilimento balneare, spiaggia Bonetti, all'inizio della nuova stagione turistica. Le fiamme non hanno risparmiato nulla della struttura gestita da Paolo Bonetti, sotto shock per l'accaduto. In base alle prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un locale cucina interno per poi avvolgere tutto il resto. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. A dare l'allarme attorno alle 6 un fornitore, che ha notato come l'incendio stesse inghiottendo la struttura e ha fatto partire soccorsi, chiamando subito lo stesso Bonetti. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per le operazioni di spegnimento, prima, e di bonifica, poi. Sono intervenuti anche i carabinieri, con il supporto dell'investigazione scientifica, per vagliare tutte le ipotesi. Al momento la pista privilegiata pare quella di un incidente. Non sarebbero infatti stati trovati segni di innesco che possano orientare verso il dolo, ma nessuna pista è da escludere. Nessun aiuto al momento dall'impianto di videosorveglianza della struttura, andato anch'esso distrutto. La pioggia delle ultime ore ha evitato che le fiamme si propagassero alla fitta macchia mediterranea circostante. Intanto è partita una prima catena di solidarietà degli altri operatori e di alcuni amici per aiutare lo stesso Bonetti a ripartire. Esprimo la mia vicinanza a chi deve rialzarsi in fretta e con convinzione. Alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, le parole della sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli.